Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Di Santo in compagnia di Luke Luca Bella E sono in compagnia anche di Antonio Spada Sta bene Sì, se magari saluti Ciao Mi salva l'auto Ciao Vieni a fronte alla videocamera e saluti No, no, no No, ok, no Vabbè Mi è sceso Ma vi vediamo su Minecraft con survival Guardate che culo dove sono spawnato io Guardate che dentro da me nero Avevo fatto tutta l'introduzione spripposa Solo che qualcuno ha fatto cadere la videocamera Un roso di mera con un po' che c'è qui dentro Cazzo stai Cade la videocamera Comunque Gesuita di mera Dovremmo subito Andare Fuori Prende la legna Fuori E provare con una bella canna Scusate, adesso Canna da zucchero Che piace la canna da zucchero? Canna da zucchero Ok Ma cazzo Quindi prendiamo a prendere la legna, lo zì Stai posso soffrire i due fazzoletti per scopo Però mi devo costruire la cosa qua De Sì però a prendere prima gli attrezzi, no, colta costruisci Qualche cosa salva allora la legna Ecco la qua Sufacol 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 Ma come ti fa Poi sto fermi Ossia Aga annunciamo un nuovo entrato al canale Il nostro In collaborazione con noi Si chiama Daniel Drago Si però si deve ancora creare il canale youtube Quindi per ora A metteremo in descrizione Quasi non sicuramente però Ragazzi ha seguito perché lui ha un test di È una brava persona Ok, vedremo se qui in acqua c'è un bel pesce Che magari Come lo pesco? Non è pesce canna da zucchero I pesci non si vedono Si sentono Vabbè Vabbè Continuavo Che faccio Allora Fatti gli sticchini Ho preso poca legna Lo so Con cazzo le faccio Allora Vai in superficie Superfile Una parola Qua tutta È giù Ti puoi arrambicare Su quei cosi Su borroici Qua Arrambicati Stai Ci metteremo un anno Più o meno Come morrò Ah Come funziona Come funziona Come si fa No Questo Andiamo a pulsare Stai Un attimo Il controllo Visto che Oh Bella Non si è già La mia La mia La mia Ma vaffanculo Allora Capace Un rispetto Come si spacca Quanto Come si spacca Come l'Xbox Salito Che po' Mi sto ballando E' credito Mi fai salito Prostituto C'è un po' di test Sono problemi Ragazzi Dove Visto Madone La giungla Però No Qua Ce ne abbiamo Andrata Qua Sato C'è la miniera Aspetta E qua Sarà La mina Ok Visto Del ferro Visto Tu Cazzo Viti Si Si Ma Dai Ma C'è la neve Qua Bellissime Mi piace Sto Mondo De Tu De Soprpia C'è il deserto Si Infatti Ci facciamo La casa Del deserto Che Anche La c'è una Amica Qua Ci Dobbiamo Ricordato Facciamo Una cosa Prendi la mappa C'è una mappa Ah ci sta una mappa Qua Si Premi Inventario Visto 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 È Piqui 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 Premi R1 E vai Lo so Come si Gioca Non so Andicappato Da un Stati Zitto Se Poco Gay Senti Con questo Monde Vario C'è Un mondo Di Giungla Un mondo Di Maschere Un mondo Di Deserto Un mondo Di Ti Combino Uo Uo Ottimo Piedi la cannabis Che cazzo fai Perché la pianti Aspetta Mi sa Mi serve Per scopi A mignoti Per riconoscere La zona Sta fanotte Come già sta fanotte No ma dò Mi ha mai chiuso Secondo Merda Un'altra miniera Oh Tutto detto Aspia Ma qua Il bambino Come dormiamo Il bambino Importante Non dormi Non c'è una casetta De merda Se cazzo Con difficile Importante Non dormire Per bene Mi capisci Ah se Siamo giocandina D'introduzionavo Fatto Solo Qualcuno Fatto La telecamera Eh Non ti vedo Se mi vuole Se mi fai Cazzo fai Se una casetta utile Cazzo Sono fuori di fame Tanto mentre lo costruisce Antonio Dicite un po' Quali giochi hai Della xbox Allora Mafia 2 Dicchia 4 Roba seria Ehm Mv3 Mv2 Ehm Le copse 2 No Oh mert Poi Farc Ah Farc Ah 2 Ehm Ehm Rega La notte la passiamo qua Direi Oh cazzo No Mi fa 12 e 13 E basta E basta Non già I crisis Ah Crisis 2 Rega La notte la passiamo qua Bella Da qua Oppure usciamo Faccio l'esplorazione Stavamo di schia Massima di schia Ma noi siamo Ma noi siamo Stavoli di fabriata Questa è buona Questa è buona Bella Cazzo 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 No se cica di sopra Ti fa male Che spin Sì sì Qua non ti può Acuto Sgamato pure come si vuole Ma d'osto Piano Un pazzo La ps3 Ehm Eh Senti Un pazzo Il cazzo Ma Due pecore Ci servono Ma Invece adesso ci dice I giochi che ha Luca per la sua Ho fatto il video Sono i coglioni Vabbè allora vi dico I miei giochi sulla play No No facciamo il video Da facciamo il video Intanto vi vorrei solo dire Che sono uscito ora da Euronics Ho comprato By Shopping Merda 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 Vada qua Vada qua Sgobba Sono i coglioni Che bruciolo abbattere un metto con l'espo la pubblica l'inventario pieno grazie c'è un muro con l'eterno cazzo mio la ria poi stava bombaziano quest'anno le vacche o merdo scherzo 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 no ti trovo prima la famiglia e poi gli attacchi merda siamo quasi morti no ti prendo amma vabbè fatti pazzi per te dormi ecco che cosa dormo scusa cioè dormire rimanella e allora ma dove amore quando vuoi saspenze cazzo la basura mappa io ho fatto un'altra persona bella al luogo di prima vabbè qua staramica la cavano quando ho preso della canna zucchero quel del buco un uomo quando è questa ecco ecco la faccia ma qua ci stanno un sacco di sgutti ci stanno oh merda ha un pollo guarda il mob lo hallo scherzo ma quello piccolo non vedo non è un zombie è un pisello oh boh un po' un po' vabbè sai che direi che noi ci possiamo mettere qua guarda dc dentro quest'acqua ci faccio un bel bagno e qui continuo ma va non è un po' allora ragazzi stavolta l'esperto di minecraft quindi merda mammi te puttano ovviamente ti uccido ti uccido mamma mamma quanti colpi ci voglio più uccido schede ma ne lo so con le mani mamma che troia proprio a pugni no no ne zocco pittà no cazzo attacca non è che tutta cazzo cazzo ci metto con le mani sto brandon grilletto come personale ma 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 dopo un giorno poco l'arco mamma mamma beh abbiamo la freccia la freccia questo è una spada merda o zombie o zombie o zombie o zombie maniaco zombie maniaco lo zombie zombie maniaco si attacca si attacca suga 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 che ragazzo io cani sta partita adesso io con stefano vediamo che combino la bello un po' più di così stefano le son qui vabbè sta prima notte diciamo abbiamo fallito perchè abbiamo fatto l'introduzione non c'è un nuovo mondo perchè bellissimo sto mondo c'è non c'è andare bene cazzo qua c'è il mare qui qua porco con la freccia con la freccia cazzo mamma che puttana cazzo your mamma isa isa puttana che cazzo è non vuoi non moriamo ancora io credo di sì ma sta girato non facci tua ok io direi di salire su un'albero ancora tutti ragazzo si sa come ho fatto a salire su un'albero? cazzo cazzo di beh ma qua stanno i mob come se covarde vabbè allora ragazzo stiamo giocando i nard non impazziate noi o giochiamo senza una casa grazie oh ma dove stanno le canne da zucchero di me soprattutto quando si fa il giorno oddio qua ci sta un'altra mina ci nascondiamo qua? ma si dai qua è stato sicuro che ci sparano mob qui si no non c'è abbiamo i semi raga ci serve sai che dico? frega di se cosa fa un culo oh eh però mo non so quando si fa il giorno vabbè lasciamo aspirare così ma non ci è scassato il buco ma si è tagliato il video si è tagliato il video io? eh si vabbè i montaggi li possiamo proprio leggeri a taglio a tagliare a tagliare non mondo un mondo fu fuori editare edit oh merda a tagliare non lo si fa perchè non l'ho mai fatta beh tu l'ho mai fatta beh tu l'ho mai fatto beh tu l'ho mai fatto con l'ombardo con a tua no la tua cosa del mio no la tua quella del mob posso chiamare x cover che è x cover ciao al canale youtube dad x cover x cover x cover chiamare vabbè rara qua siamo aspettati che sto mob ma ti mettevo il bastone trae ruote capito di mortacci tua questo è tutta colpa di stefano che mi ha fatto l'acqua eh maiale porco vieni qua torroia senza palle non togliere la terra a mezzo abbiamo da mangiare ragazzi la carne è guasto perchè si mangia eh certo non so che ti avveni c'è non crescono i cuori però non morirà madonna che pro volone già l'hai ucciso ok ho trovato la via no non ne per... ah si si vado porcio ma te che vieni spada perchè ridi interpreta la tua risata malefica no no perchè no niente no niente ok questa è la traduzione di spada perchè ridi non devi ridere comunque intanto di santo sta mangiando quindi vabbè con me ho peccato oh ma dove stiamo qua oh ma qua sta neve quindi qua sta il deserto no? no più avanti Antonio adesso scorreggio in buco ci vi dice un po' oh un'altra mina lo zii quando si si vuole aprire il canale youtube bella bello lo fa bello no a me no non mi piace fare video su youtube solo vederli ok per andartene allora perchè che si vergognati scusamo che stai facendo ho da un'altra mina ma no questa chino di mina aiuto solo i miei amici a farlo ma non potrei stare da merda a spider fare un video su youtube ok questa ci serve per fare la canna da pesca sono giacini prima lui no ma cosa attacca no mamma faccio acqua so acqua so acqua so acqua so acqua so acqua ma devi la carne ma che cosa ma devi la carne mica ci fai cuori tua mamma ma tua mamma oh e comunque ci sta facendo il giorno ok ragazzi non so mori perchè non fa notte ma no approfitta di questo giorno la mamma fa so acqua so acqua quindi a strada beh devi iniziare a raccogliere i miei sti cazzi vabbè scusatevi vi passo davanti raga la piega oh stai la mia una sai com'è sta io qua sto su d'acqua su d'acqua su d'acqua fa le sei tantoni eh vergogna ci sta se gli andai ho fatto fuori zitto 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 comunque vi ricordo che Antonio Spada purtroppo è gay eh e ancora è Stefano no raga è Stefano i primi è fidanzato già da due anni con Luca non è vero ma non lo conoscevo da due anni non ti ha conosciuto il giorno l'altro giorno intorno ho pensato a D'Agostino sentito da D'Agostino a D'Agostino ragazzi vediamo il nostro amico D'Agostino Angelo Rami con uno scambio vorrei salutare anzi vorrei ringraziare sì un giorno un giorno vorrei ringraziare un attimo Natale Natale Sorlui 450 ok grazie che ha fatto eh in pratica mi ha aiutato a fare ok io a te non ti attacco te lo puoi fare un amico basta che gli te la carne le ossa ci vogliono c'è le ossa tu dell'imentario io ce la faccio in poche parole Rocky Spencer 90 anche io ce la faccio che come no vabbè insomma per fare pubblicità c'è 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 un'altra volta devo passare per quanto la sta parte di spaziano adattare la faccia per te per te questa famiglia un po' la cesta direi non parla facciamo più che altro un bel piccoli legno perché ho visto che la pietra ragazzi e quindi la cazzo ovviamente il mio figlio è un bel io ho ho ovviamente faremo oh prendiamo parlo ma che cosa si ghiaia pietro ma via la pietra che molto altro si è buggata la pietra per un millisecondo vaga però la ps3 è troppo troppo non mi rende troppo schivosa è una vecchia versione di minecraft vecchia versione che è sul computer siamo arrivati addirittura alla 1.7 qua sarà 1.0 ok direi di andarci a fare un rifugio sgubbo per la notte ovviamente anzi no questo qua è il primo rifugio raga lo ricordate? beh si due secondi fa il successo la amplieremo questo diremo dai si ampliamo qui giusto per si però non lo fa di sabbia lo faccio di sabbia perchè il legno ci serve ovviamente ricordate che stiamo in survival noi creati ma stiamo andando di sabbia si distrugge cosa si distrugge sto cazzo perchè non già hai non è non è non è io vorrei invece ringraziare a am androni che domani ci fornirà la fornitura di giochi da fare su picchi piccoli 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 domani andremo a casa di luca a fare non so quale video domani andremo a casa di mia nonna ci sarà anche il nuovo il nostro nuovo allora l'abbiamo vabbiamo vabbè lui e stefano faranno faremo delle rubriche horror ero 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 ragazzo mi è più bello slender che scrive no se che non c'è credo non sono più belle siccome sono scagazza siccome io non voglio essere in punto non tollerante mini pony quindi hai capito? cazzo capisci non capisci non grazie giusto no senti mi conferma anche Antonio che ti conosce a più tempo Antonio ci accompagnerà pure nel video successivo ragazzi stavano ci siamo conosciuti a scuola me sbaglio po' me sbaglio ci andiamo solo in grassi in zero non so in grassi in zero perchè ci accomuna una cosa una bella voglia luca fuma io no non è vero io non fu un ragazzi non credito a queste brutte parole ragazzo stavo per fare il tetto però un po' mi sono ricordato che la sabbia sprofonda un pazzo non lo cazzo da comunque salutiamo il nostro amico pomare con Antonio ciao Mario so che sei un nostro fan non è vero bello lo salutiamo perchè oggi per la prima volta è venuta a scuola mi ha scottuto facendo pfff ahahah ammito perchè io di solito non ci casco mai non è vero ma davidò fa un video quando faccia stefano lo metto su youtube non ci casca mai sottotitola di segno e questo bisogna il disegno intanto raga noi faremo anche cominceremo con la mia spira dei bomber ragazzo manco il cazzo se vuoi sapere che penso che si ma se vado a leggeremo subito del mangiare le big bubble tre big bubble le mani con il big almeno lo faccio io perché luca ma lo faccio anche io perchè la sfida di bagno è battuto per un per un bandanda mangiare le big bubble in acqua e sale ma mani che babbo ma io non lo so che spreco il primo video poi ci dite quello che dobbiamo fare e noi lo facciamo lo cominceremo quando troverò delle big bubble allora eh no perchè sono molto difficile a trovare capito mi sono andato a comprare magari male ma mi sono scortato anche perchè dovevamo fare questo video qui e dicelo e abbiamo poco tempo ragazzi perchè non già volevo spiegare il fatto Stefano abita dall'altra parte della città quindi noi abitiamo a noi abitiamo noi a Termoli bella quindi ma tu ma che ma che piacere ma che culo c'è questa droga i villaggi insorbati ma do che ci vuoi ma do questo mondo se lo perdiamo mi suicido la ci stanno 6.000 miniere qua c'è un villo e lo sai che cioè andiamo alla casa del Fabio ci spariamo con quella cesta bella se c'è l'immagine non c'è bestemio se non c'è bestemio bestemighe bestemighe questo ci serve fa una cosa stripposa fa che c'è bella ma ma sta ne abitando no guarda e questo mi fa uccide questo è un villaggio questo b e preti questo è un progetto ah comunque la voglia c'è il Fabio c'è il Fabio quindi c'è la casa del Fabio c'è il 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 Fabio vi salutiamo Angelo Weidi saluto Massimo che fare ok lo sputtare l'agenda in pubblico e se non ci denunciano per copiarare il timbulo tutti quindi pubblico raggio ragazzi copiamo loro oh che cazzo sta guarda scherzando non trovo la casa vorrà salutare Andy Rosario lei e Jackson che viene in so che non c'è so che non c'è nostro fan abbiamo fatto una siccomezza se lo si mette con la buonanza strato sferito non dire il nome non lo vogliono buonanza uno strato una di quelle buone come quando mi immaginate io mi faccio più prete tu sai di chi stiamo parlando perchè ti ci permette mi faccio prete ah beh anche io ho detto che andavo a parlare con il mio prete di fiducia non sa vanno chi è capito c'è una casa mia si chiama padre Enzo ah so Jack quello è quello che chiamato so Jack al primo quella è femmina ah ma dove sta il villone il fabbro il fabbro c'è e niente se si metti mi faccio prete ma dove sta c'è ma qua che c'è bella se vuoi muoio ma il cazzo muoio ok sta a morire di fame ma andiamo alla rotta in flash ragazzi che noi possiamo che noi possiamo che noi possiamo non rigenere i cuori però la fame si tu no che c'è qua wow c'è la fratta vabbè ragazzi io direi che che puzza muo questo ma che puzza avvenenato e non muore e non muore sono lì ragazzi ma non riesce a trovare questa casa del fabbro e se qua sono 6.000 casa attacca e sta fatta male male più male di gli sgubo male questa casa del fabbro che mi sbaglio no no non è questa guarda le porte sono sommersi come sono sommersi e guarda ah no ah no ah no ah no bella vabbè tu escemo che ci vendi tu che ci vendi tu detto che ci non ci vendi niente ma che casa è non ci manchi il letto senti eh a proposito di letto dobbiamo trovare un rifugio per la notte che io un'altra notte ando qua dentro fate il letto qua per dormire fa dormire ando là ma non c'è il letto dove dormo prenderla fregami un attimo devo trovare due di lana piacciono i lampioni come li hanno fatti certo ok raga qua sarà il nostro punto di raccolta direi perché qua c'è una bella farmia troppo cazzo bene mangio avranno non abbiamo cibo con la 농a mo 111 mo me lo dice lui cazzo lo tanto lo zombi che vuoi si parli e parlare più o oh balla ieri con po' pop o poco bella rosa acqua c'è la chiesa un bel terzo a farla la famiglia cosa c'era toffa la vera con la reggiatrizia al primo anche le famiglie tutto messo bambini conti apparese e dvd che dico noi diamo sto grano ci parliamo il pane stavola spada la misura pura la torta facciano torta ma stiamo in credito che ci facciamo per i tuoi torti no, mi serve per fare il trofeo birra morì birra non si dice a chi si ruba in grano a sti poveri cristiani questi poveri questi stanno sfondati di soli cazzo sbagliato il bottone cazzo ha fatto sbagliato il bottone è stato di vero ma saranno sui sette anni vabbè piangiamo piangiamo questi e basta ma perchè le piangere se muo le ruffi che forse devo farlo di crescita farm che dici a proposito prendi degli sti blocchi di terra che co perchè come lo dico li portiamo quando ci facciamo il rifugio sentite raga ho trovato un non questo villaggio madonna spettacolare vabbè c'ho un culo su minecraft miti perchè devo dire grazie a me che non ho messo mondo super piatto che tu vuole mettere il super piatto tendi sentita la pulsante graffina la graffina boccia salva almeno se moriamo ricarichiamo sendi inerdo salvo non sono salva aspetta non la rifugio un posto rifugio del cazzo questo è un gioco acqua che quando ti cazzo 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 dalla che voglio fa c'è mo ditemi se questa non è data non è un'idea sguddo ciao pennù ti saluto ti dedico questa idea che pennù c'è oh cazzo si sta facendo notte merda oh la prossima è a trovare pecore me ne fa con cazzo il prossimo giorno raga guardate qua raga guardate qua che fai raga guardate qua non si piazzano non mi dico che non si piazzano la no qua qua tu mamma con la superficie qua muo me lo dici tu altro ah che raga facciamo una bella cosa muovi di che sto diventando l'oltre ovviamente questa è per anni e non c'è via ti dico da lavoro metterlo dentro farò più col piccone chi lo può che ragazzo dobbiamo fare il pane assuramente ma sta far mettere l'ansia quando io dai oh senti non chi lo sa chi lo sa che cazzo fai tu parli a distruggere si due blocchi ci servono infatti ma to che precisione raga non abbiamo neanche una porta ah 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 falla di mattoni che te la frego ok raga mo facciamo una bella cosa e dopo stoppiamo il video siamo prima web ovviamente perché c'è sempre dove cazzo sta mi oh a walking banjo a dove l'ho messa cazzo sbaglio mi botto a walking banjo sta qua ci mettiamo la lana qua andamia quando la odio mo prendiamo una bella fornace ce la graffitiamo e la sbattiamo bella qua mo ci facciamo una cesta e la sbattiamo bella qua mo come cazzo si fa il pò il pò il lo sgutto come si fa il posizionamento rapido ah non c'è acqua lo devi mettere spostando veloce entriamo per la quale purtroppo non ci serve niente mo a questo ci serve per fare il pane che stiamo per morire ragamo sentire dei cuori che oh dobbiamo due cosciotti dove si fa il pane dove si fa il pane eccolo eccolo ce lo spariamo tutta pane ma si ma si ciò mangiamo pure ma proprio fa poco fa poco tre cosciotti sono poche si ma do come vabbè raga penso che dai mob e dagli ucluca sia tutto ci vediamo alla prossima che dici c'è una prossima con l'ultima correzione perchè sono in sicuro ci vediamo la prossima vabbè raga il primo video finisce qui si dai ha giocato lui ora ci faremo tutti gli attrezzi del mestiere raga ehm no adesso non so se registriamo un'altra volta un secondo episodio per minecraft almeno faremo una serie che dimenticare un titolo per questo episodio de merda ma anche se posso farlo scopare dimmi il titolo per questo episodio direi fortunato minecraft episodio 1 scuola di a bischia roba bischia ci stanno mob qua a caccia a caccia di cazzo a caccia di mostro no vabbè questo è un video fortunato raga direi perchè molto video fortunato lo chiamiamo la fortuna di ucluca perchè io stavo io cavo quindi ho trovato tutto bella vabbè grazie per aver visto il video mi ho messo mezzola soltanto per il titolo grazie per aver visto il video noi continueremo adesso con il secondo episodio no ci facciamo una serie raga anche scriverlo un secondo di merino perchè non so che cazzo ha lasciato la serie a metà anche il palco forse con i assassin grid però l'ho detto mi sono scuola xbox anche il computer vabbè dopo la vita da questo testamento da antonio le spalle è tutto sta bene sta bene ciao ciao e sta bene are saluto ciao da lucluca è tutto bella ragazzi e da safrani risanto è tutto bella raga che